Eravamo ragazzini, giocavamo pallone alla palla, palla a mano, facevamo la palla con gli elastici e un pezzo di stoffa, si faceva la palla e si giocava tra noi così. Poi dopo, crescendo, abbiamo cominciato a giocare con le palle che giochiamo adesso, che sono poi le palle del tennis, pelate. All'interno c'è una palla molto morbida, adatta per giocare. Aver sempre giocato la pallina, se io non vengo qui la domenica, tutte le domeniche, vengo qui a Santa Lucia, mi sembra che mi manchi qualcosa e mi manca il gioco della pallina.